Siamo una delle flotte più giovani d'Italia e forse d'Europa. 15 nuovi autobus Euro 6 sono già in servizio da oggi e completano il rinuovo del parco mezzi pugliese di Fall che conta 53 pullman a bassissime emissioni inquinanti. L'età media dei bus scende così a 7 anni adeguandosi alla media europea e confermandosi ben al di sotto di quella italiana che è di poco più di 10 anni, migliorando gli standard di comfort, accessibilità e sicurezza. Guardiamo al futuro in termini di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale perché guardiamo alle fonti di produzione energetica alternativa anche come fonte di trazione dei nostri mezzi. La prossima sfida sarà la rivoluzione infrastrutturale con i nuovi cantieri finanziati dal PNRR. Noi abbiamo già aperto due cantieri, uno a Modugno con il secondo step dell'interramento per due chilometri, abbiamo già aperto il cantiere della riqualificazione della stazione di Altamura e il 15 giugno inizieremo il terzo investimento che sarà quello del rinnovo della tratta di Bari centrale. L'investimento complessivo per i 15 nuovi autobus ammonta 3,4 milioni di euro per la gran parte fondi regionali con il cofinanziamento di Fall da 500 mila euro. Un passo in più che la regione Puglia ha compiuto in termini di mobilità, dal punto di vista della sostenibilità credo che sia fatto sicuramente un passo in avanti.